Siamo conosciuti perché i nostri migliori amici si sono conosciuti fidanzati e quindi tramite loro ci siamo conosciuti e innamorati noi. All'inizio che l'avevo conosciuta non ci avrei scommesso nulla se qualcuno mi dice sulla sposa io gli dicevo no tu sei pazzo è cambiato anche conoscendolo capendo il tipo di ragazza ho capito tante di quelle cose Grazie a tutti! Ci sono stati mesi in cui era un sì no sì no poi alla fine noi volevamo con la razionalità stare lontani però in realtà il cuore non ci ha potuto forzare lontani io ho insistito più di una volta sono stato io quello che ha insistito più di lei che ha ceduto prima di capì come si senta capì adesso smettila GABRI 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 Grazie.